Ciao ragazzi sono Superseva, proprio nell'ultimo giorno di calciomercato del 31 agosto finalmente abbiamo preso Paredes e questa volta sono convinto che questa volta farà bene con noi. Prima non lo volevo e adesso che mi ha convinto finalmente lo abbiamo preso in prestito con diritto di riscatto per 20 milioni. E quindi arriverà a Torino nelle ultime ore di calciomercato e comunque abbiamo trovato un altro nuovo mediano che farà il vice Zaccaria e in questo momento abbiamo dato via Rovella in prestito per trovarsi spazio con il Monza e di dar una mano e quindi dobbiamo dargli tempo a questo ragazzo di continuare a crescere e che così avrà tutte le capacità e gli attributi. Per diventare un buon ottimo centrocampista giovane comunque innanzitutto auguriamo un bocca al lupo a Rovella che andrà in prestito al Monza che ormai è già lì che ha fatto appena le visite mediche e adesso aspetteremo Paredes. Aspetteremo in queste ultime ore di calciomercato prima che finisca e siccome siamo nell'ultimo giorno di agosto e quindi ci siamo ancora una volta rinforzati a centrocampo prendendo Paredes che lo facciamo ritornare in Italia dopo che è stato alla Roma. Paredes come lo conoscete tutti era nella Roma poi è andato allo Zenit è andato al Paris Saint Germain e adesso sta per arrivare a Torino. Quindi attendiamo Paredes che arriverà a Caselle così si svolgerà visite mediche e tutto quanto deve dare l'ufficialità alla società eccetera. E quindi benvenuto alla Juve Paredes allora io con il video lo finisco qui tra l'altro ve lo sono detto che che Paredes sta per arrivare alla Juve e quello vi ho scritto ieri sera nella community del mio canale che l'affare si concluderà proprio oggi. Proprio oggi. Che dire ci vediamo stasera per il post partita di Juve e Spezia quindi preparatevi che dobbiamo assolutamente tornare a vincere dopo una vittoria e due pareggi ma vabbè se siamo solo all'inizio comunque tutto qui. Ci vediamo per il post partita di Juve e Spezia se il video vi piacciono lasciate mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, mettete la campanella, qua lo spese per tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a prossima e come sempre fino alla fine Forza Juve.